A Crotone potrebbe nascere un parco tematico tra i più grandi al mondo, un parco dedicato alla Magna Grecia, capace di attrarre turisti e diventare volano di economia per tutta la regione. Il progetto è stato presentato dal suo ideatore, l'ingegnere Antonio Lidonnici, che ha avuto l'idea dopo un viaggio in Grecia. Ho visto che oggi costruiscono sul Parzenone nuove colonne, nuove travi che non esistevano o perlomeno che esistevano prima e che sono state deturpate dal passare degli anni. Quindi questa idea mi è venuta proprio pensando ai nostri beni culturali, ai nostri templi e quindi l'idea di realizzare un parco che riprodurrà in maniera fisica reale i principali templi delle principali polis della Magna Grecia. Il parco si estenderebbe su un'area di almeno 180 ettari, ancora non individuata. Sarebbe strutturato in quattro aree con decine di attrazioni, strutture ricettive a tema, quattro grattacieli, villette a schiera, bungalow, ristoranti, bar, negozi e servizi e anche tre anfiteatri. Il parco costerebbe oltre un miliardo di euro e, stando alle previsioni, potrebbe accogliere due milioni di visitatori all'anno con importanti ricadute economiche ed occupazionali, fino a 700 addetti a tempo pieno, che diventerebbero anche 2.500 nella stagione estiva. Per costruirlo si pensa ad una fondazione che avrebbe già intercettato l'interesse di decine di imprenditori. Segnali di ripresa per il settore turistico calabrese? Dal Cultural Site Reputation Index studiato da Demoscopica emerge che il 2022 segnerebbe un incremento dei flussi turistici in Calabria. Demoscopica ha stimato per il 2022 una crescita più meno del 25, 30% sia per quanto riguarda gli arrivi. 1,4 milioni i turisti che noi abbiamo stimato hanno scelto, sceglieranno la Calabria come destinazione turistica per trascorrere le loro vacanze, con circa 6,5 milioni di presenze generate e un indotto in termini di spesa turistica pari a 500 milioni di euro. Numeri tuttavia ancora al di sotto dei risultati registrati nel 2019 con un meno 31,3% di presenze e un meno 28,1% di arrivi, ma per la Calabria si registra quest'anno un livello di interesse medio-alto. Rilevante il livello di appeal, circa 8 italiani su 10 che dichiarano di conoscerla esprimono il loro interesse a visitarla è altrettanto significativo l'indicatore della fidelizzazione. Il 93,9% degli italiani che si è recato in Calabria per una vacanza oppure per un viaggio, almeno una volta negli ultimi anni, ci tornerebbe nuovamente. Ma quali sono i principali attrattori? L'ospitalità dei calabresi, il mare, la cultura enogastronomica rappresentano gli attrattori principali secondo il mercato italiano. Un elemento importante, adesso bisognerà mettere evidentemente a sistema queste informazioni attraverso la redazione del nuovo piano di sviluppo strategico regionale che possa in qualche modo e in maniera coerente con i finanziamenti comunitari rilanciare il turismo, soprattutto in chiave post-pandemica. Per vent'anni non si è parlato di depurazione, settore senza regole. Baggiuduro è il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, nella conferenza stampa di stamattina in cui, affiancato al direttore generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, ha spiegato che la regione ha stanziato altri 4 milioni di euro per rendere efficienti i depuratori. Il governatore ha chiamato raccolta i sindaci e dato disposizioni precise. Daremo ad ogni sindaco un decreto dove è scritto quello che puntualmente deve essere fatto per riparare il depuratore, il decreto di finanziamento per farlo e 10 giorni per concludere la procedura. Tutto questo in ragione di un tavolo interistituzionale che abbiamo svolto con le procure interessate, con la Capitanaria di Porto, col Comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con i prefetti, perché sulla depurazione tolleranza zero. Sarà il Corap, per come previsto dall'ordinanza firmata dal presidente nei giorni scorsi, a controllare la gestione dei 14 depuratori tra Tortora e Nicotera sul terreno, nei quali sono state accertate criticità definite gravi sia nella gestione che nel funzionamento. I dipendenti di Corap, insieme ai dipendenti del Dipartimento Bilancio, entranno sui depuratori e verificheranno che i lavori che abbiamo disposto che si debbano fare si facciano. Ho scelto Corap perché così la regione ha una governance diretta sul processo che si deve mettere in campo per risolvere i problemi del funzionamento dei depuratori. La pulizia del nostro mare parte innanzitutto dai buoni comportamenti di ciascuno di noi e dal rispetto dell'ambiente. Anche questo è stato sottolineato dal presidente della regione, Roberto Chiuto, che ha presentato le attività svolte e i provvedimenti adottati. Anzitutto sono state rilevate le criticità di ogni singolo comune per quanto riguarda gli impianti di depurazione e le stazioni di sollevamento. Realizzata una geolocalizzazione di tutti gli impianti, le stazioni e i pozzi neri. Alcuni scarichi non erano mai stati neppure censiti. Stanziati poi quasi 3 milioni di euro da distribuire tra i comuni per l'acquisto di materiali per effettuare lavori di efficientamento delle pompe di sollevamento. I comuni avranno 10 giorni di tempo per realizzare i lavori. Tutti gli stanziamenti ammonteranno a cifre inferiori a 140 mila euro, tranne che per il comune di Falconara albanese, dove c'è una criticità davvero inaspettata. Addirittura a Falconara abbiamo scoperto un fiume Fogna che correva sotto il terreno. L'abbiamo fatto emergere, ce ne stiamo occupando perché c'erano diverse abitazioni e attività economiche non collettate. La regione ha costituito dei gruppi per il controllo del territorio con la collaborazione di Carabinieri, Capitaneria di Porto e Procure, oltre che di Calabria Verde, così da poter monitorare e prevenire la presenza di scarichi abusivi e verificare la regolarità dello smaltimento dei rifiuti. Ancora accogliendo la richiesta dei sindaci dei comuni dell'Alto Tirreno-Cosentino, sono stati stanziati fondi per l'acquisto di battelli ecologici, che inizieranno immediatamente la loro attività e provvederanno alla pulizia del mare, pulendolo dei rifiuti solidi galleggianti, in particolare la plastica. L'obiettivo da raggiungere quest'anno è di una risoluzione del 40-50% delle problematiche, in modo tale da poter avviare un ITER che, nell'arco di 2-3 anni, possa portare ad una completa risoluzione delle criticità. I prefetti di Catanzaro e Vibo Valencia, Maria Teresa Cucinotto e Roberta Lulli, hanno firmato delle ordinanze con le quali vietano ai veicoli adibiti allo spurgo dei Pozzineri e ai condotti fognari di circolare nelle ore notturne, dalle ore 22 alle ore 6. Le ordinanze avranno effetto dal 1 luglio e fino al 15 settembre. E questo perché, come si evince dalle indagini svolte dalle forze dell'ordine negli anni passati, gli illeciti e gli scarichi abusivi avvengono soprattutto nelle ore notturne. Non è il primo anno che vengono emanate simili ordinanze, ma quest'anno ci sembra davvero che ci sia un piglio diverso nell'affrontare questa problematica, così importante se vogliamo davvero che il turismo diventi uno dei motori della nostra economia. La pulizia del mare e del nostro ambiente in generale è fondamentale per creare interesse verso la Calabria. Esprime apprezzamento sull'adozione di queste ordinanze anche il presidente della regione Roberto Occhiuto, che sottolinea come con questa stretta chi vuole violare la legge e delinquere avrà un ostacolo in più da aggirare. Occhiuto parla di pugno duro, prevenzione e repressione, che sono le regole d'ingaggio che ci siamo dati, aggiunge e sottolinea anche come davvero le capitanerie di porto, le procure e le forze dell'ordine stiano agendo assieme con determinazione per la salvaguardia dell'ambiente e del mare. Studenti e aziende, giovani e adulti in un workshop a Catanzaro per combattere in università dicono neutralizzare lo spreco alimentare attraverso l'ideazione di una innovazione circolare. Si è trattato di un autentico concorso, oggi il contest finale, la presentazione finale da parte degli studenti e il gruppo migliore, sono cinque gruppi, hanno fatto dei lavori eccellenti, il gruppo migliore verrà premiato con uno stage in Comalca e un assegno di 1500 euro. Si guarda al futuro a rendere reale la sostenibilità, l'impegno di Comalca e un'industria. Oggi partiamo anche con un approccio nuovo, basato sul posizionamento percettivo, quello che può fare Comalca per questo territorio, le ricadute occupazionali, la creazione di imprese e la conseguente creazione di posti di lavoro. Non si può prescindere da un rapporto con l'università e dalla creazione di una rete territoriale. Una regione come la Calabria, che punta anche sul turismo e sull'agra alimentare, non può che non puntare sulla sostenibilità ambientale. Puntare sulla sostenibilità ambientale significa guardare al futuro. Guardare al futuro significa puntare sui giovani, investire sui giovani, quindi credo che un'iniziativa come quella di oggi, che mette alla prova i giovani su una progettazione concreta, seppure sperimentale, sui temi dell'economia circolare e farli insieme a delle aziende nostre associate, credo che sia, in grande sintesi, il migliore esperimento e il migliore messaggio che si può mandare al territorio. La nostra regione deve inevitabilmente puntare sulla sostenibilità ambientale. 131 partners aderenti al distretto del cibo rurale del Vibonese, scritto al registro del Ministero, riconosciuto dalla regione, si è fatto notare per la sua progettualità lo step successivo del percorso e la costituzione di una società che ha quali ambizioni. Per metterci da subito in campo su questo importantissimo bando, peraltro a carattere multiregionale, relativo ai contratti di filiera, che è molto importante perché poi, voglio dire, noi oggi abbiamo realizzato lo strumento, lo strumento l'ho utilizzato, è come che avessimo in qualche modo, giusto per utilizzare una metafora molto abusata, è come che noi possedessimo, avessimo attrezzato una buona auto da corsa e poi però non la utilizzassimo per fare le gare, per competere. Invece noi abbiamo realizzato, attrezzato una macchina da corsa, cominciamo a correre, ovviamente partecipando ai bandi, che l'Unione Europea, le istituzioni comunitari, le istituzioni nazionali e regionali mettono a disposizione per realizzare queste politiche che voglio ricordare sono le politiche di integrazione e di sviluppo delle filiere agroalimentare a partire, diciamo soprattutto, quelle saranno il perno della nostra strategia, a partire da delle filiere enogastronomiche. Si parte dall'analisi che il territorio di Vibo, per le sue caratteristiche e per la molteplicità di offerta del turismo sostenibile, ha necessità di mettere a sistema le risorse e comunicarle bene. Abbiamo necessità di lavorare per esempio sugli standard di qualità, anche dell'accoglienza, della ricezione, dei servizi in senso lato. Abbiamo necessità di destagionalizzare, di utilizzare il turismo balneare, questi due grandi attrattori che sono Tropea e Capoticano, però per fare poi, veicolare i flussi di turisti all'interno. Abbiamo bisogno di fare politiche per il turismo sostenibile, un turismo avveduto, leggero, slow, che non abbia molti impatti, che però produca valore e dia ricchezza al nostro territorio e alle nostre popolazioni. Con i contratti di filiera, nuova limpa e sostegno alle attività del comprensorio. L'idea appunto è di incidere, sia direttamente con i rilevanti progetti che andremo a fare. I contratti di filiera, pensi che i contratti di filiera hanno un taglio minimo di 5 milioni, un taglio massimo di 20 milioni di euro, ma io spero che la ricaduta sia soprattutto in diretto. Agricoltori preoccupati in Calabria, alle alte temperature, si aggiunge la minaccia degli incendi, le condizioni economiche precarie che consentono di non coltivare a pieno i terreni, ma, a precisarlo e la col diretti, non si è in emergenza. Certo, non siamo al livello di quello che sta succedendo nelle aree della pianura padana, però qui oggi, pur avendo un'oculata gestione della risorsa idrica, grazie alle attività svolte in maniera egregia da parte dei consorzi di bonifica, però stiamo incominciando a pagare i danni delle mancate precipitazioni durante il periodo invernale. Basta considerare che per quanto riguarda la produzione delle foragene, siamo al di sotto del 50% rispetto a quelle che erano le spiattative. Oggi incominciamo ad avere anche problemi su alcune culture particolari, sul settore dell'olivicoltura e purtroppo incominciamo a notare in questi giorni anche la cascola dei fiori per quanto riguarda gli agrumi. Se dovesse continuare così, noi da qui a qualche mese ci ritroveremo veramente con seri problemi di mancata produzione un buon in tutti i combattenti. La Calabria si aspetta molto dal PNRR, c'è però da fare in fretta, ma non tutte le amministrazioni locali che dovrebbero preparare i progetti per attingere a questi fondi hanno mezzi, numeri e uomini per poterlo fare. Il rischio è di perdere ingenti somme, criticità evidenziate anche dal sindacato. I comuni non sono assolutamente attrezzati, nonostante siano destinatari del 70% di queste risorse, per poter mettere a terra queste risorse, poter programmare, poter fare i progetti e spendere queste ingenti somme che vengono dall'Europa. Non lo dice nessuno. La macchina pubblica in Calabria, ma non solo in Calabria, è fortemente destrutturata, hanno il blocco dei concorsi, hanno di non assunzioni e di turnover a zero. Quindi di conseguenza c'è bisogno di lanciare l'allarme e noi lo abbiamo fatto come sindacato. A queste condizioni il piano nazionale di ripresa e resilienza non sarà realizzato in Calabria, con un danno economico, sociale e occupazionale per il territorio e anche reputazionale enorme, perché nel momento in cui ci sono risorse, in Calabria le risorse non si spendono, procede il luogo comune secondo il quale nonostante non possiamo aiutarvi perché non siete in grado voi di aiutarvi. Presentato all'interno del decreto rilancio 2020, il Superbonus 110 ha consentito sicuramente una ripresa per il settore di Ile, promuovendo la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare. In questi anni però, per colpa anche dei soliti furbetti, il Superbonus è stato modificato. Ma adesso a che punto siamo? Beh, si riscontrano da parte delle imprese difficoltà nella cessione dei crediti e questo si traduce in molti casi in uno stop agli interventi con gravi ripercussioni sul settore di Ile e ricadute catastrofiche sull'occupazione. Oggi sulla questione interviene il sindacato CGL. Le enormi e varie difficoltà riscontrate dalle imprese nella cessione dei crediti collegati ai vari bonus in alcuni casi hanno bloccato completamente gli interventi che riguardano i candieri, rivelandosi naturalmente un colpo basso per le imprese sane e quelle che a nostro parere rispettano le regole, mettendo sull'astico naturalmente di conseguenza centinaia di lavoratori. Noi siamo convinti come filea che nel valzere delle modifiche apportate dal governo, ad onor del vero, tante cose buone sono state fatte, da quello dell'obbligo dell'applicazione del nostro CCNL di Ile a tutti i cantieri che riguardano il Superbonus. Però questo non basta. Ma qual è allora la proposta del sindacato per far ripartire il bonus 110? Bisogna risolvere e trovare la soluzione drastica e decisiva che garantisca la cessione dei crediti attraverso Cassa Depositi e Prestiti con la costituzione di un fondo nazionale specifico che sia in grado di garantire subito liquidità alle imprese e di rientrare poi con i saldi pluriannali di restituzione fiscale nei cinque anni successivi. In piazza per la seconda volta in meno di sei mesi sono i lavoratori della team, il colosso delle telecomunicazioni in Italia, conta 40.000 dipendenti che oggi a Catanzaro dove abbiamo girato le immagini che vi mostriamo come a Roma vivono la stagione dell'incertezza, quella che mai avrebbero immaginato il nuovo piano industriale apre scenari foschi. E produrrà più di 8.000 esuberi. La suddivisione dell'azienda in una net co, in una service co farà in modo che sostanzialmente anche la parte dei servizi che sarà quello che rimarrà di team avrà molta difficoltà a competere nel mercato delle TLC in Italia perché rispetto agli altri competitor tipo Vodafone, tipo Gwind3 avrà molto più personale e molti più esuberi. Quindi da questo punto di vista noi siamo molto ma molto preoccupati. No allo spacchettamento dell'azienda, lo ribadiscono i sindacati che sostengono l'avvertenza. Un piano industriale presentato con un'azienda spacchettata in tante piccole aziende, quindi il nostro campione nazionale delle telecomunicazioni andrebbe a sparire, senza però chiarire che fine faranno i dipendenti, senza chiarire che piano industriale si intenderà applicare. Quindi praticamente un piano industriale al buio. Le bandiere, non solo della triplice, l'indice puntato sulla politica che avrebbe cambiato passo. Il convitato di pietra di questa vicenda è proprio il governo alla luce del fatto che stiamo parlando di un'azienda che è sempre stata strategica per il paese. Poi quando si parla della rete parliamo di un'infrastruttura che riguarda, o meglio impatta moltissimo sulla sicurezza nazionale. Quindi riscontriamo, al nostro malgrado, anche poca visione dal punto di vista della programmazione industriale, anche rispetto ai competitor europei. Sono 1800 i precari della sanità assunti per l'emergenza Covid e fra pochi giorni il loro contratto terminerà il 30 giugno. Uomini e donne resteranno senza lavoro in un comparto, quello sanitario che lamenta una tavica carenza di organico. Questa mattina alla protesta davanti la cittadella di Catanzaro, a loro fianco il sindacato USB Calabria che chiede ad occhiuto, in qualità di commissario ad acta, di trovare una soluzione in tempi celeri. La situazione è paradossale perché fondamentalmente i 1800 hanno la gran parte la scadenza al 30 di giugno, però contemporaneamente con loro dentro si sa che ci sono ancora delle carenze di personale molto forti, quindi l'emergenza sarebbe rinnovare loro, prorogare, stabilizzare chi ha raggiunto i requisiti e assumere anche altro personale perché, ripeto, con loro dentro c'è carenza di personale. È come se la Calabria perdesse il più grande ospedale della regione. 1800 persone sono fondamentalmente, fa bisogno di funzionamento di ospedali grossi della regione, è come se all'improvviso venisse a mancare l'ospedale di Reggio e l'ospedale di Catanzaro. Collasserebbe il sistema sanitario regionale. Questa cosa potrebbe avvenire in piena estate, nel momento in cui la popolazione calabrese aumenta per via dei turisti, i pronto soccorsi aumentano le loro prestazioni, quindi sarebbe un disastro sanitario totale. Un altro tassello è stato a posto per la realizzazione del nuovo ospedale. Dopo il sì della Giunta, l'occhè della Commissione Edilizia, ieri sera è arrivato il via libera dal Consiglio Comunale. Tutto secondo previsioni. Il nostro comio si deve fare e lo si farà a Vagliolise. L'Assemblea cittadina ha detto sì con 23 voti favorevoli, tre astensioni, Fratelli d'Italia, e quattro contrari, Cito, Ruffolo, Caruso e Donato. La pratica è stata licenziata, adesso la cartella degli riempimenti burocratici che spettavano l'amministrazione comunale è a posto. Si procederà alla realizzazione? Insomma, è indubbio che un passo in avanti deciso è stato compiuto, ma l'ultima parola aspetta la Regione. Toccherà adesso dal Presidente Occhiuto esaminare le carte del progetto e decidere. La cosa si concluderà in tempi brevi? Se lo augurano i cittadini che non ne possono più. Ci sono i fondi? Alcuni sostengono di sì e che non è un problema di soldini, anche perché, proprio ieri, in occasione della visita all'Unical, il Sottosegretario della Salute Costa, nell'invitare tutti gli attori in campo ad evitare la conflittualità e a procedere in direzione del soddisfacimento del bene comune, ha rivelato che le Regioni hanno nel cassetto ben 11 miliardi di euro per l'edilizia sanitaria, che però, ad oggi, non sono riusciti a spendere. Io ho la delega dell'edilizia sanitaria e tra l'altro ho proprio costituito un tavolo interministeriale, perché noi non possiamo accettare che oggi nel nostro Paese ci siano 11 miliardi di risorse statali affidate alle Regioni e da 10 anni queste risorse non sono ancora state messe a terra. Rimangono non spese, allora se pensiamo che noi abbiamo 19 miliardi in salute del PNRR, c'è forte preoccupazione, perché non avrei speso ancora 11 miliardi, significa che qualcosa nel sistema non funziona. Ora si tratta di capire con grande trasparenza, se c'è un problema politico va risolto, se c'è una contrapposizione politica va risolto, se c'è un problema burocratico siamo disposti anche a cambiare le regole per accelerare la messa a terra di queste risorse. Prima prova questa mattina per gli esami di maturità, tornata quasi alla normalità dopo due anni segnati dalla pandemia. Nessun obbligo di mascherina, ma la maggior parte degli studenti preferisce ancora indossarla. Dopo la classica prima notte degli esami, oggi dunque il tradizionale è sempre temuto compito di italiano. Per due anni i maturanti sono stati alle prese solo con un maxi orale a causa della pandemia, quest'anno invece tornano le prove scritte. Sono abbastanza emozionato, sono felice in realtà di farlo in presenza e di farlo questo scritto, perché deve rappresentare la mia maturità e speriamo che vada bene. Anche noi abbiamo fatto due anni di DAD, quindi comunque una buona parte del triennio l'abbiamo fatta in DAD e questo forse un po' ci ha penalizzato, però è una cosa positiva comunque, credo di riuscire a tornare finalmente a fare una cosa più normale. Mi siamo un po' agitati, perché comunque dopo due anni è ancora complicato, però auspichiamo questo ritorno alla normalità e quindi forse è giusto così. In Calabria sono 19.514 gli studenti impegnati negli esami di Stato, nel dettaglio 7.061 nel Cosentino, 5.762 nel Regino, 3.406 nella provincia di Catanzaro, 1.692 in quella di Vibo Valencia e 1.593 nel Crotonese. Sette le tracce della prova di italiano divise in tre tipologie, analisi del testo, il testo argomentativo e il saggio di attualità. Pasquoli, Verga, Liliana Segre e il Nobel Parisi, i brani scelti dal Ministero, che propone agli studenti riflessioni su pandemia, mondo social, leggi razziali, cambiamento climatico e potere della musica. Domani la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti, il percorso di studi e infine il colloquio. Domani la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà un